Buon pomeriggio dalla redazione di Udinese TV. Apriamo con il maltempo questa edizione del pomeriggio del nostro TG. La notizia delle ultime ore è l'annuncio del comune di Pordenone che da domani le scuole saranno riaperte, oggi erano state chiuse in via precauzionale vista l'annunciata ondata di maltempo. A Pordenone ci sono ancora alcune strade chiuse in centro ma la situazione è sotto controllo. Anche questa mattina si sono registrati diversi allagamenti in tutta la regione tra le zone più colpite, quelle di Grado, Palmanova, Lignano, Tarvisio, Nimis, Tricesimo, Ronchi dei Legionari, Fogliano, Redi Puglia, Osoppo, Pavia di Udine e Arta Terme. In 12 ore a Udine e Lignano si sono accumulate rispettivamente 90 e 100 mm di pioggia. Questa mattina c'è stata anche una nevicata moderata su parte del Canale del Ferro e sulla Valcanale, oltre i 400 metri e circa. Alcune strade in regione sono state chiuse al traffico. Sul territorio al lavoro oltre 125 volontari della protezione civile in una cinquantina di comune. Nelle prossime ore la zona di convergenza associata a piogge intense tenderà ad attenuarsi gradualmente spostandosi verso ovest e dal tardo pomeriggio le piogge saranno moderate e in ulteriore successiva attenuazione. Al momento è chiusa la strada regionale 3 per Carlino, proprio per allagamenti. E questa mattina abbiamo sentito anche i tecnici del Consorzio di Bonifica della pianura friulana impegnati in queste ore nel monitoraggio della fitta rete di canali scolmatori che convogliano le acque nei principali fiumi, nel torre oppure nel tagliamento. Allora andiamo a sentire proprio le parole del direttore tecnico Stefano Bongiovanni. La situazione è abbastanza critica, non emergenziale, però diciamo monitorata, attenzionata in quasi tutto il compressore del Consorzio che va dalla zona della bassa verso Grado, poi tutta la bassa pianura fino a Lignano, poi risalendo anche nella zona intorno all'Udinese oggetto di monitoraggio, proprio perché c'è un nucleo, una parte di perturbazione che tende a stazionare nella zona centrale del comprensorio che ha riversato una certa quantità di acqua. Nell'ultime 12 ore per dire ha piovuto a Lignano 100 mm, che sono una quantità importante, che va a sommarsi alle piogge come note intense dell'ultimo fine settimana, quindi diciamo il reticolo idrografico dell'intera regione, specie quello secondario, è già abbastanza saturo. Altra zona invece oggetto di monitoraggio è lo scolmatori, che porta l'acqua dal torrente Corno al fiume Tagliamento, che in questo momento sta scaricando 60 m3 al secondo e che nello scorso fine settimana aveva trasferito 100 m3 al secondo. Facendo un sommario calcolo, siamo a oltre 11 milioni di m3 d'acqua che abbiamo trasferito dal Corno al Tagliamento che era in grado di riceverle e che abbiamo sottratto nella zona del Codro di Peseca, altrimenti avrebbe avuto grossissimi problemi idraulici. Bisogna fare un monitoraggio continuo, lottare contro gli inconvenienti perché sappiamo che le macchine possono anche guastarsi e abbiamo comunque un presidio continuo sul territorio proprio per cercare di gestire meglio questi eventi climatici sempre più intensi. E oggi a Trieste la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Sissa, la scuola di studi superiori di Trieste. Fra Cristoforo nei Promessi Sposi ci ricorda come le chiese fossero luoghi inviolabili, ha detto Mattarella, lo stesso approccio dovrebbe essere attuato nella ricerca, che è un evento fondamentale della crescita. Allora andiamo a sentire proprio le parole del Capo dello Stato. Professore Ruffo, sono molto lieto di essere qui alla Sissa. Fa parte di quella alta concentrazione nei centri di cultura e di ricerca di cui Trieste e l'intera regione sono caratterizzati. Trieste e l'intera regione. L'epoca anzi ci ha illustrato in maniera molto convincente il ruolo e la funzione della Sissa. Ci ha presentato numeri dei 1.400 ricercatori e cercatrici passati da qui, tanti altri numeri significativi, i risultati, i successi, i riconoscimenti autorevoli in sala internazionale, l'attrezzatura, i macchinari di altissima tecnologia, sempre più avanzati di cui si dispone qui. Sarebbe difficile poter trovare parole migliori quelle di Dante per definire l'importanza della preparazione e della competenza in qualunque ambito e settore della vita e della società. E' l'importanza del riconoscimento delle risultanze scientifiche contro ogni tentazione di contrasto, di rifugire dei risultati della scienza. E' una straordinaria tendenza, allora qui si registra, che è stata manifestata sia da lei, il professor Ruffo che è dalla dottoressa, nello sforzo, nell'impegno per tasserire la conoscenza della ricerca nelle scuole e tra le imprese. Non c'è nulla più filosofico che parlare del senso della conoscenza, quella conoscenza che fa andare avanti l'umanità appunto, che ci fa riflettere, particolarmente se vissuta come qui avviene da contributi di ogni nazionalità e di quanto siano sconsiderate e prive di logica e di senno i contrasti e le contrapposizioni nel mondo. E all'incontro con il Presidente della Repubblica c'era anche il Governatore Massimiliano Fedriga che ha sottolineato come le eccellenze scientifiche del Friuli Venezia Giulia possano essere un'opportunità per tutto il Paese se riusciremo, ha detto Fedriga, a renderle sempre più capaci di trasformarsi in realtà imprenditoriali, industriali del terziario avanzato. Questo è un po' il progetto che abbiamo come regione, la creazione di una fondazione assieme ad Area Science Park e ad altre realtà private affinché in Friuli Venezia Giulia possa crearsi quel nodo di collegamento con il centro-est Europa e con il resto del mondo per colmare il gap che c'è tra start-up e permanenza sul mercato dell'azienda stessa. Andiamo a sentire altre voci della cerimonia di oggi a Trieste, quella della ricercatrice Antonella Viola e quella di Massimo Cirri, voce di Radio 2 che ha condotto la mattinata. La curiosità nella scienza come tema dell'inaugurazione dell'anno accademico della Sissa, quanto conta secondo lei questo elemento? La curiosità conta tantissimo, dovrebbe contare tantissimo, purtroppo oggi conta sempre meno perché appunto il tema importante è proprio questo, cioè in assenza di finanziamenti per la ricerca, la ricerca diventa una ricerca sponsorizzata, una ricerca appunto finalizzata degli obiettivi molto precisi e questo ovviamente limita moltissimo la nostra attività di ricercatori, limita l'esplorazione appunto scientifica guidata dalla curiosità e probabilmente limita anche i benefici a lungo termine che questo può portare. La sua relazione oggi però sarà incentrata sul slow science? Sì, sulla ricerca lenta ovviamente non intesa come pigrizia o come rifiuto della valutazione, ma intesa come rispetto dei tempi della ricerca, soprattutto nell'ambito della ricerca biomedica, medica, questo è un fatto molto delicato e molto importante. Noi dobbiamo accettare la valutazione della comunità scientifica, la verifica che viene dalla comunità scientifica prima di comunicare i nostri risultati. È necessario appunto non sottrarsi a questo importantissimo metodo scientifico, cioè alla valutazione della propria ricerca. La presenza di Mattarella oggi attesta l'interesse e l'importanza che ha il mondo scientifico, accademico? Eh sì, devo dire che noi ricercatori non sentiamo di essere così importanti nel mondo politico e accademico, siamo quindi molto molto contenti della presenza del Presidente, speriamo che sia un segnale di vicinanza reale. Inaugurazione dell'anno accademico della Sissa, una grande festa, il tema è la curiosità nella scienza, secondo lei quanto conta? E credo che conti molto curiosità, voglia di cambiamento, determinazione, non rassegnarsi, svegliarsi presto, quelle cose che ho sempre detto ai miei figli senza ottenere nessun risultato. La Sissa è un'eccellenza in ambito mondiale, quanto è importante valorizzare realtà come questa? Credo che vanno molto raccontato, la Sissa è una delle prime università giovani al mondo, prima fra le università giovani al mondo, è un'eccellenza del territorio, va raccontato insieme, è un prodotto tipico, il Friuli Venezia Giulia deve vendere il buon prosciutto, deve vendere la riforma Basaglia, deve vendere la Sissa, sono le nostre eccellenze. Per dare un'idea di quanto è importante questa giornata la presenza del Capo dello Stato, Mattarella? Credo che sia un riconoscimento, un bellissimo riconoscimento, il Presidente si alza presto, è curioso, prende un aereo, arriva a Ronchi dei Legionari, viene qua, partecipa a una parte della cerimonia di inaugurazione e poi torna a fare le molte cose che devo fare. Credo veramente un grandissimo riconoscimento. Lei cosa dirà oggi in qualità di conduttore, diciamo, della cerimonia? Il mio momento clus, quando fa ingresso il Presidente della Repubblica, io dirò fa ingresso il Presidente della Repubblica. Andiamo avanti con la cronaca adesso. L'allenatore di una squadra di calcio della categoria esordienti ha dato del terrone all'arbitro e il questore di Pordenone ha emesso nei suoi confronti un daspo di un anno. Per questo motivo il mister non avrà accesso ad alcuna manifestazione sportiva e dovrà immediatamente lasciare la guida tecnica della sua formazione. L'episodio è avvenuto durante una sfida tra giovani calciatori nella città di Sacile, dove il 42enne allenatore giocava quel giorno in trasferta. È stato individuato il pirata della strada che nei giorni scorsi aveva travolto un ciclista a feletto Umberto. Grazie ad alcuni testimoni e al sistema della videosorveglianza esaminati dai militari dell'arma è stato possibile risalire al mezzo e al responsabile. A guidare la vettura che dopo l'urto si era data la fuga, un uomo classe 1938 di Pazian di Prato, di fatto domiciliato a Tavagnacco. L'auto, una Fiat Panda, è stata posta sotto sequestro mentre il conducente è stato denunciato. E una donna è stata investita questa mattina mentre stava attraversando la strada in Piazzale Cella all'altezza dell'intersezione con Viale delle Ferriere. I fatti sono avvenuti poco prima delle 9. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale, che avrà il compito di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. A dare l'allarme il conducente della vettura che si è fermato immediatamente a prestare soccorso. Diversi disagi al traffico con forti rallentamenti. Un autista di mezzi pesanti ungherese che procedeva zigzagando lungo l'A4 è stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato positivo ma anche recidivo. Un altro conducente di nazionalità italiana, appizzicato per la presenza di stupefacenti, oltre che privo di patente, in quanto mai conseguita mentre circolava sulla A23. Sono questi alcuni dei casi emersi dai controlli realizzati la scorsa settimana dalla polizia stradale. Le pattuglie hanno controllato 1.343 veicoli, tante persone, 458 le infrazioni rilevate con 1.128 punti decurtati dalle patenti. Tra le principali violazioni, anche quelle per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per l'uso del telefono alla guida. Questa mattina, attorno alle 9.20, i vigili del fuoco di Oppicina sono intervenuti in strada nuova per Oppicina per un incidente stradale con due auto coinvolte. Le persone presenti all'interno dei due mezzi sono state prese in cura dal personale sanitario. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e l'area del sinistro. I lavori della giunta comunale di Udine ora. Il Comune è pronto a mettere a bando i locali sfitti di proprietà per favorire il commercio cittadino. Sono stati stanziati anche 250.000 euro per le centraline idroelettriche del Malignani. Giovedì sarà ufficiale il rimpasto di giunta. Sentiamo l'intervista realizzata al Sindaco da David Zanirato. Sindaco Fontanini, il Comune è pronto a mettere a disposizione i locali sfitti in città a favore delle attività economiche. Quali locali si tratta? Sono dei locali che attualmente sono chiusi, che occupavano esercizi commerciali e noi vogliamo un bando chiaramente perché la cosa devono partecipare tutti e metteremo a disposizione di chi vorrà riaprirli e farli vivere sotto l'aspetto commerciale chiaramente. Poi sul fronte a provvedimenti quest'oggi anche 250.000 euro proprio stanziati dall'assessore all'audicina. Sì, questa è una cosa importante secondo me perché dobbiamo ricordare un grande scienziato, figlio di questa città che è Arturo Malignani. Arturo Malignani realizzò una centralina idroelettrica a largo delle Grazie, sfruttando la roggia e noi grazie a ERA utilizzeremo un contributo di 250.000 euro per lì realizzare una piccola centrale idroelettrica a scopo didattico affinché i ragazzi possano vedere come si produce l'energia elettrica sfruttando in questo caso una risorsa ecologica che è l'acqua e allo stesso tempo ricordare Arturo Malignani le sue scoperte, le sue invenzioni che furono veramente avveneristiche e che permisero a Udine di essere la terza città nel mondo a avere l'illuminazione pubblica con le lampadine, quindi alimentate ad energia elettrica. Chiosa finale, Sindaco, in settimana arriva al rimpasto? Sì, giovedì c'è l'incontro alle 12.30, sarà presente anche il governatore della nostra regione, comunicheremo il rimpasto e quindi avremo nuove figure all'interno della giunta. Andiamo a Pordenone adesso dove si è chiusa con grande successo di pubblico la fiera Radio Amatore 2, più di 30.000 i visitatori tra i padiglioni di Viale Treviso. Sentiamo. La fiera del Radio Amatore è sempre in ottima salute e i numeri lo confermano. Nell'ormai tradizionale esposizione pordenonese, in due giorni sono passati tra i padiglioni più di 30.000 persone e sono stati oltre 200 gli espositori presenti. La formula è ormai consolidata e nella 22esima edizione si è vista una grande crescita delle ultime novità della fiera. Oltre ai classici padiglioni dedicati a radio e foto amatori e tanti stand con occasioni per acquisti informatici, un grande successo l'ha ottenuto Game.com, salone dedicato a fumetti, cosplay, animazione e fantascienza che ha portato in fiera moltissimi giovani provenienti da tutto il nord-est. Un'edizione molto digital, quella di Radio Amatore 2. La pagina Facebook ha raggiunto 100.000 persone e le interazioni con i vari post sono state 50.000. Il sito web infine ha fatto registrare 50.000 pagine visualizzate, principalmente da utenti italiani, ma il 15% delle visite è arrivato da Slovenia, Croazia e Austria. 22esima edizione, non edizione di fotomercato e quarta edizione di Game.com. Questo mix che ci ha premiato anche quest'anno, nonostante il tempo inclemente, sicuramente tutti i parcheggi sono strapieni e ringraziamo moltissimo le persone che continuano a credere che l'offerta di Pordone Fiere sia un'offerta all'altezza delle loro aspettative. Per cui grazie a loro che ci continuano a visitare, il nostro impegno per dare sempre di più continua. Grazie mille. Grazie mille. Un friuli tutto da scoprire in questa mostra, quante sono le fotografie proposte e il periodo considerato? Beh, in mostra ci sono una settantina, 75 immagini vecchie e 75 immagini contemporanee. Nel catalogo ce ne sono molto di più, sono 100-120, fra Friuli e Udine, perché sono suddivise in due tematiche. La mostra è abbastanza semplice perché può essere un gioco di coordinamento, fra il vecchio e il nuovo e di metamorfosi urbanistica ma anche sociale della città. Quali sono alcune delle curiosità che emergono da questo confronto temporale? Beh, innanzitutto ci sono state tante distruzioni. Ci sono state distruzioni motivate dalla guerra e quindi ricostruzioni motivate dall'abbattimento dei palazzi, ma ci sono state anche tantissime distruzioni non motivate, come il famoso Cinema Eden, che è stato un cinema assolutamente importantissimo, a Udine, che era un palazzo prospicente al palazzo municipale d'Aronco, che è stato battuto dopo 30 anni, quindi diciamo un giovanotto, come è stato detto, senza grande motivazione, solo per costruire un altro edificio. Sono fotografie provenienti da archivi pubblici ma anche privati? Certo, sono archivi pubblici e privati perché l'IRPAC, proprio come è stato tutto, ha la diffusione di archivi. Noi vogliamo far uscire le cose dagli archivi, dalle fototeche, e quindi siamo sempre in cattura di nuove immagini da proporre e da diffondere. Citiamo anche alcuni dei fotografi più celebri che insomma sono presenti. Certo, quindi Brisighelli Pignat, Malignani, antecedente una manciata di scatti di Augusto Agricola, che è molto giovane, ha iniziato la fotografia proprio poco dopo la nascita della fotografia, 1839, nel 1856 ci sono già delle sue foto di Udine e poi tanti altri. Una mostra a ingresso gratuito, oggi dunque l'inaugurazione ufficiale, fino a quando sarà possibile visitarla e in che ora? Fino al 6 gennaio 2020, gli orari sono il pomeriggio nei giorni feriali, quindi dalle 15 alle 18 e invece sabato e domenica apertura sempre, dalle 11 di mattina fino alle 7 di sera. La pagina sportiva adesso, torniamo sui campi del Bruseschi, dove l'Udinese si sta allenando al coperto e dove c'è per noi Lorenzo Pausa. Buon pomeriggio Lorenzo, a te la linea. Buon pomeriggio a Angela e a tutti i nostri telespettatori. Si sta concludendo questa seduta di allenamento qui sotto il pallone del Bruseschi. Io mi sposto così il nostro Andrea Simeoni può mostrarci qualche immagine. I giocatori ora stanno facendo un attimino una pausa, un cooling break, dopo aver disputato una breve partitella 7 contro 7, nei quali le due squadre erano così composte. Da una parte Nicolas, Teravest, De Maio, Barac, Wallace, Cubala e Lasagna. Dall'altra parte Perizan, Neutink, Sierra Alta, Ballarini, Mandragora, Okaka e Teodorci. Una seduta, come dicevo, quindi svolta al coperto, viste le condizioni meteorologiche particolarmente proibitive. Una seduta nel quale si è unito al gruppo Rolando Mandragora, di rientro dalla Nazionale, dove ieri sera nel corso della galoppata dell'Italia che ha battuto per 9-1 l'Armenia non ha fatto suo ingresso in campo. Hanno giocato invece con Iaialo e Kensema che oggi hanno svolto un programma differenziato. Assieme al gruppo anche Stefano Okaka, mentre il lungodegente Pussetto e Rodrigo Becao hanno svolto un programma personalizzato, così come Samire nella seconda parte, dopo aver svolto regolarmente assieme alla squadra la prima ora di allenamento. Un allenamento che è cominciato con una parte di attivazione per poi proseguire con i classici torelli, esercitazioni volte alla cura del passaggio e alle conclusioni. Quindi queste le ultime schermaglie dell'allenamento di oggi con la preparazione che proseguirà domani con una doppia seduta alle 11 la mattina e alle 15 il pomeriggio, orario che poi vedrà i bianconeri impegnati anche nelle giornate successive, compreso anche sabato dove si svolgerà una seduta di rifinitura poco prima della partenza per Genova dove domenica i bianconeri affronteranno la Sampdoria. Settende ora il rientro degli ultimi nazionali con il gruppo che sarà effettivamente al completo a partire da giovedì. A te Angela. Grazie, grazie a Lorenzo Pausa per questi aggiornamenti. Noi ci fermiamo qui per questa edizione del nostro TG ma ci riveliamo come ogni giorno alle 19 con tutti gli aggiornamenti di Cronaca e di Sport. Buon pomeriggio. Noi ci fermiamo qui per questa edizione del nostro TG